è arrivata Giuseppe una sconfitta contro il Sassuolo, un Sassuolo che ha giocato la partita una gara, lo vedete anche il mister in presentazione, non facile un Empoli che nel primo tempo non ha fatto forse vedere le cose viste a Firenze e Milano un Empoli che però si è rivisto alla grande nel secondo tempo dove è mancato unicamente il gol Sì, credo che la tua analisi sia giusta, purtroppo il primo tempo abbiamo sofferto non siamo entrati forse con la giusta ignoranza, con la giusta cattiveria di non perdere la partita loro hanno giocato in maniera vera, in maniera decisa, in maniera ignorante forse anche più di noi nonostante la classifica e abbiamo pagato quello poi purtroppo il primo tempo è andato male però come hai detto bene tu poi il secondo tempo è stato un secondo tempo importante dove abbiamo fatto vedere buone cose che è mancato solo il gol, qualora avessimo accorciato le distanze molto probabilmente la partita si riusciva a portare a casa Lo diceva anche il mister, forse è entrata un po' di paura addosso quando c'è stato quel retropassaggio sbagliato ad inizio gara che ha un po' sballottato mentalmente poi l'intervallo invece è stato un toccasana perché ripeto abbiamo poi visto come avete giocato il secondo tempo Sì, ci siamo guardati, ci siamo un po' parlati anche grazie ai consigli del mister, dello staff ci siamo riaccerchiati un po' e ritrovati un po' nonostante il primo tempo un po' brutto forse l'occasione del retropassaggio capita c'è stata una mancata comunicazione, un errore però ci ha un pochino spostato gli equilibri però giusto un paio di minuti poi abbiamo cercato di ricompattarci, di ripartire ma non eravamo quelli di settimana scorsa e due settimane fa non avevamo quella stessa cattiveria e ignoranza e purtroppo quando non riusciamo a mettere questo ogni qualvolta non siamo riusciti a mettere questo non abbiamo portato punti a casa Ti chiedo da un punto di vista tattico cosa è successo sul secondo gol del Sassuolo dove tu e Federico vi siete ostacolati a vicenda Sì, ho messo una grande palla tra me e Federico in zona centrale secondo me siamo anche scappati con i tempi giusti e poi è mancata la comunicazione o da parte mia o da parte sua perché purtroppo nessuno dei due ha comunicato e molto probabilmente perché lui non vedeva me io non vedevo lui siamo andati tutti e due sul pallone e abbiamo fatto la frittata e purtroppo gli errori ci sono e nelle settimane scorse le abbiamo limitati colgo anche l'occasione per fare i complimenti a Federico perché ha fatto due ottime partite e poi purtroppo gli errori ci sono da parte mia, da parte sua, da parte di altri dobbiamo cercare di eliminarli come è successo nelle partite precedenti dove ci sono stati pochissimi errori individuali e siamo riusciti a portare a casa la partita Senti, la filosofia adesso deve essere quella dei piedi per terra non ci siamo esaltati al di là della gioia emotiva per le vittorie di Firenze per la di Firenze un po' sì, onestamente quella di Milano non bisogna reprimirci adesso sono quattro gare il destino è nelle nostre mani e questo deve essere l'arma in più è solo ed esclusivamente ma dall'inizio non è solo adesso no, come anche dicevo in settimana dove ho fatto un'intervista la cosa principale che doveva esserci dopo le due vittorie doveva essere l'equilibrio e quindi tanto di più quest'oggi dopo una sconfitta interna brutta che nessuno si aspettava ma come molto probabilmente nessuno si aspettava le due vittorie fuori casa noi siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio adesso questa mazzata deve passare in queste 24 ore e poi ripartire per affrontare una settimana carichi e vogliosi di dimostrare che non siamo non siamo quelli di oggi ma siamo i giocatori e la squadra che ha fatto l'impresa di Firenze e di Milano anche perché per chiudere il sassuolo oggi ha dimostrato che nessuno ha la pancia piena e nessuno vuole regalare niente fino all'ultima giornata questo da una parte rende onore al campionato per noi dobbiamo dare essere un monitor, un avvertimento per dare il 110% ma sì, è giusto così credo che sia giusto sia giusto così è giusto giocare fino all'ultimo minuto indipendentemente dalla zona di classifica quindi indipendentemente dai possibili risultati di squadra è giusto continuare su questa strada perché poi chi è più forte chi ha più valore e chi ha più organizzazione si tirerà fuori e si salverà Alessandro, una vittoria costruita soprattutto nel primo tempo poi nella ripresa avete trovato il terzo gol ma avete badato più che altro a contenere le sfuriate dell'Empoli Sì, siamo stati bravi appunto a gestire la partita dopo una volta raggiunto il vantaggio e poi alla fine l'Empoli ha provato ad attaccare è stato bravo Andrea consiglia a fare due belle parate però credo l'abbiamo gestita bene come partita non era facile perché comunque l'Empoli si sta giocando la salvezza sapevamo di affrontare una squadra appunto che ha voglia di salvarsi e noi credo abbiamo avuto un atteggiamento ottimo perché comunque dopo è facile dire che era scontata però queste partite non sono mai scontate e abbiamo dimostrato di essere grandi professionisti Vi aspettavate magari forse un Empoli un pochino più aggressivo? Ma l'Empoli comunque ha fatto ha creato ha fatto la sua partita noi comunque abbiamo avuto delle belle occasioni siamo riusciti a trasformarle cosa che magari l'Empoli non ha fatto probabilmente noi dobbiamo stare un po' più attenti nel finale a concedere un po' troppo Cosa non è mancato in questa stagione dal Sassuolo che a noi ha fatto sei gol tra andata e ritorno per non fare un campionato non dico uguale ma sulla falsa riga di quello dello scorso anno? Ma c'è l'impegno d'Europa che un po' comunque ti toglie un po' di forze poi un po' di infortuni ci hanno sicuramente penalizzato perché abbiamo perso giocatori importanti per lungo tempo e poi quando entri comunque in periodi negativi non è mai facile uscirne abbiamo fatto dei filotti negativi che ci hanno penalizzato appunto la classifica Ti chiedo se l'Empoli anche quello visto oggi è squadra che può comunque avere le carte a regola per trovare il quarto tutto il tempo posto e mantenere la categoria Ma comunque tutto il campionato che è fuori dalla zona retrocessione quindi sta dimostrando di poter rimanerci e adesso si è accesa un po' più verso la fine la sfida per la salvezza hanno quattro giornate per dimostrarla comunque mi sembra una squadra ben allenata ben organizzata e viene da due risultati anche comunque importanti positivi Grazie mille Prego